Ciao, fa un bel tempo che abbiamo lasciato nostra vita a Bruxelles per iniziare un progetto grassetto qua in un piccolo paese d'Italia. Questo progetto è un co-living, un terreno che sviluppiamo di maniera regenerativa, che già abbiamo comprato, poi anche lo yoga in posti speciali e soprattutto lo svolgimento di una regione sottovalutata. Allora guarda cosa segui e fai non sapere se vuoi fare parte di questo progetto. Grazie a tutti. Se avete guardato il video fino ad adesso, significa che siete interessati a darci una mano per sviluppare il nostro progetto ad impatto sociale e ecologico positivo. Cosa proponiamo è abbastanza semplice, si chiama il reward crowdfunding. Voi precompate il vostro assigiorno, noi utilizziamo questi soldi per ristrutturare la casa e sistemare questa casa storica del centro storico di Alvito. Non vediamo l'ora di vedervi qua e chissà. Grazie. 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 Grazie.